Per una sanità pubblica, per una scuola pubblica, mi pare che diciamo così non è una cosa che è per, cioè è contro perché si vuole... ...progressivo, difficoltà nel rapporto con l'Europa, la lista, per tanto, in un'altra c'è sicuramente... ...viola GR2, nel quartiere Aurelio, fornò da metto giorno l'operazione dei Vigili del Fuoco... ...sciane! ...apprezzato questa sua... ...diparazione... ...sì, assolutamente sì, possiamo... ...un grande branchezza, che forse se... ...magari, la settimana prima della campagna elettorale... ...magari sarà stata più... ...diparazione... ...se accompagnasse anche a un superamento del simbolo del tricolore all'interno del simbolo di Fratelli d'Italia... ...e... ...diciamo elementi di nostalgia ancora presenti, è stato... ...che è confermato dal fatto che Giorgia Meloni questo annuncio si è sentito di doverlo fare in più lingue... ...quindi evidentemente il problema esisteva... ...senta, oggi in modo diverso e con argomenti diversi, sia Francesco Boccia che Bettini... ...ehm... ...si spingono a prevedere l'ipotesi che dopo le elezioni, dopo il 25 settembre, il destino... ...che modo farli di avvicinare... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro stimo di vita è un 70% di quello che abbiamo fatto. Il nostro stimo di vita è un 80% di quello che abbiamo fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi sono slogan coltiche che ormai anche gli italiani conoscono e che sanno sicuramente strumenti di adeguamento delle pensioni all'amorizzazione. Il nostro stimo di vita è un tema fondamentale. Si faccio a carico del fatto che l'inflazione è autorista di essere una cosa che ci accompagnerà per un periodo breve. Quindi non possiamo lasciare che parti della... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.